Meghan Markle ha lanciato una nuova impresa imprenditoriale. Ma un esperto reale avverte che la duchessa di Sussex sta percorrendo una strada molto pericolosa e rischia ripercussioni. Dopo aver avviato la sua nuova attività, l'ex attrice di Suits Meghan Markle sta rischiando il titolo, secondo un esperto. La duchessa di Sussex, che di recente è stata vista dare una performance mentre leggeva i bambini a Los Angeles, è dietro un nuovo marchio di lifestyle chiamato American Riviera Orchard. Secondo quanto riferito, Meghan è felicissima del suo nuovo progetto, nonostante il nome sia stato crocifisso dalla critica. Ma l'autore Tom Quinn l'ha avvertita che sta percorrendo un percorso molto pericoloso, e potrebbe perdere il titolo usando la sua connessione reale per guadagnare denaro. Quando Meghan e il principe Ferri hanno lasciato il trono della famiglia reale nel 2020, hanno stretto un accordo per non utilizzare i loro titoli reali per affari. Tom Quinn ha dichiarato al Mirror. Meghan sta percorrendo una strada molto pericolosa, avviando un nuovo progetto commerciale. Ogni volta che intensifica l'aspetto commerciale della sua vita negli Stati Uniti, rischia di perdere il suo titolo reale. Ha anche detto. Per ora, i reali senior del Regno Unito stanno guardando e aspettando di non voler agire troppo precipitosamente nel caso in cui vengano accusati di essere vendicativi. Ma quando le cose si saranno calmate, verrà presa una decisione affinché Meghan possa non come. Ha continuato. C'è una profonda sfiducia nella famiglia reale nell'usare i legami familiari e i titoli reali per fare soldi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.